Il campo di Monza va ad attaccare Gennari, tiene Novara, Encock va da Caracurta, una pipe devastante, ma regge il colpo Lasovic, poi va Vanek, anche lei da lontanissimo, c'è Washington in copertura, Daldarov si gioca solo dalla seconda linea, rincorre Orro, tiene vivo questo pallone, poi deve ed è costretto a giocare dall'altra parte, lo fa molto bene il pallone. C'è il punto di Novara.